Dietro concessione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel Cilento, nel sud Italia, abbiamo riportato alla luce niente poco di meno che Garibaldi. Signor Garibaldi, 150 anni e più e non li dimostra affatto. Dunque, le vorremmo chiedere, ma di questa Italia che lei rivede dopo tanti anni, cosa si salva? Si salva almeno la pizza? Un momento, innanzitutto voglio salutare, buonasera Italia, buonasera Giungano con la pizza a Cialentano. E che si salva? O ne salviamo tutti quanti o che affondiamo. Però il sud Italia è una cosa meravigliosa. Con i miei Garibaldini, se non erano per questi contadini del sud Italia, l'Unione non la faceva. E mi rendono una grande mano, non voglio quasi, ma la pizza l'abbiamo mangiata. Puoi Giungano? E una pizza, dice, la faceva la nonna mia, che sapore che ti dia. Mi scuso con Giungano perché nel 1861 non ho passato per Giungano, ma ho visto che festeggiano con la pizza, con tanti prodotti della nostra terra, la terra italiana Cialentana, quella del sud. Vi dirige a trovare, la pizza la facciamo assaggiare, bella. Che fai a nord Italia? Vieni a sud Italia, vieni.